Montelupo Fiorentino Montelupo Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi, sull'SP12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali social. Chiudiamo con il traffico ferroviario sulla linea Bologna-Prato fino a lunedì 2 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale. Il traffico sarà sospeso tra Prato e Pianoro. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!